Oggi invece parliamo di rilancio del museo cittadino. Sì, come ordine medici stiamo promuovendo la valorizzazione e appunto la promozione del museo Roberto Papi che tanto ha voluto Mario Papi ma tanto ha voluto anche l'amministrazione comunale di Salerno perché è stato un investimento non solo all'amministrazione comunale ma all'azienda di Sogiorno e della regione Campania. Questo museo è patrimonio non solo della famiglia Papi ma patrimonio della Campania e di Salerno e di tutti coloro che hanno la fortuna di poterlo visitare. Tra l'altro noi stiamo lavorando come ordine a supportare il progetto Scuola Medica Sanitana Salerno che sarà presente a Expo 2015 e anche a Miami nella grande esposizione croceristica internazionale.